Perché il ricco in Italia è visto sempre negativamente, con un'invidia negativa, che abbia rubato, che non abbia pagato le tasse. È vero, c'è stanno ricchi che hanno rubato, ma c'è stanno pure i poveri che hanno rubato, c'è stanno ricchi che non pagano le tasse, c'è stanno pure i poveri che stanno con la disoccupazione e il reddito delle cittadinanza e non avevano diritto. Il motivo è molto semplice, bisogna ammetterlo. Quello ha fatto i soldi, perché voi non l'avete voluti fare e lui l'ha voluti fare. Io la vedo come che quel ricco, oltre che una poca motivazione, va anche ringraziato. Eccoci in diretta, Mindset Monday numero 4, quarta puntata su quella che è la mia esperienza, su quello che sono stati i miei pensieri e secondo me sono la base del motivo per il quale sono riuscito, grazie alla crescita personale e al mindset, a ottenere la libertà finanziaria. Parliamo di obiettivi, quindi libertà finanziaria, da chi l'ha ottenuta la libertà finanziaria, perché in giro se ne vedono tutti i colori. Iniziamo, iniziamo subito. Ringrazia i ricchi. Vi chiedo di condividere questa live, non so su che canale la state guardando, YouTube, Facebook, LinkedIn, però condividete, perché questi sono i miei pensieri, i miei modi di ragionare e penso possono essere utili anche a voi e ai vostri amici. Ovviamente poi ognuno li farà propri, ognuno prenderà esclusivamente la parte che gli interessa oppure se la modificherà. Però penso, come a me hanno tanto aiutato le biografie, penso che possono aiutare anche voi. E questo è il motivo per cui nasce Mindset Monday, che mi chiediate sempre, fai video sul mindset, fai corsi sul mindset? Non faccio corsi sul mindset, faccio dei video dove racconto il mindset, cioè i miei ragionamenti su determinate situazioni. Oggi parliamo di ricchi. C'è una frase, una frase che ha girato molto sui social, su Instagram, e la frase è questa. Partiamo da questa frase e poi sviluppiamo tutti i ragionamenti, cerchiamo di capire quello che c'è dietro e come la vedo io, come la penso io. La frase è questa. Negli Stati Uniti, se tu stai al semaforo e a fianco a te si ferma uno con la Ferrari, tu lo guardi e questo ti suscita motivazione, come per dire, sogno, come per dire, vedo la Ferrari e un giorno potrò averla anch'io. Lavorerò sodo, farò il mio percorso, farò il mio piano e un giorno potrò avere anch'io la Ferrari. In Italia, se ti fermi al semaforo e vedi uno con la Ferrari, gliela rigano. Allora, fermo restando il discorso Ferrari, che per esempio a me non piace la Ferrari, quindi ok, non è un discorso di Ferrari, ma è un discorso di quello che rappresenta. Fermo restando questo, chiariamolo subito, non è uno di fare la Ferrari, ma Ferrari significa raggiungere i propri obiettivi. Perché in Italia te la rigano? E te la rigano non significa che vengono lì e te la rigano col cacciavite, te la rigano significa che c'è un retaggio mentale, c'è un paradigma mentale che ci hanno inculcato, che chi è ricco ha rubato, chi è ricco fa impicci, chi è ricco non paga le tasse. C'è questa cosa qua. Chi è ricco? Ah, ma quello è defamiglia. Ah, ma quello chissà impicci che fa. Ah, ma quello fa chissà che sporchi traffici che fa. C'è questa cosa qua. In rarissimi casi, rarissimi casi, si sente dire, ah, ma quello è un genio. Ah, ma quello è... no, quello... C'è sempre... perché succede questo? In Italia molto di più. Qui in Spagna, seppur essendo molto simile all'Italia, molto meno. Mi dicono da chi ha vissuto negli Stati Uniti, molto, molto meno ancora. Perché c'è questa cosa qua? Perché il ricco è visto sempre negativamente, con un invidia negativo, che abbia rubato, che non abbia pagato le tasse. È vero, c'è stanno ricchi che hanno rubato, ma c'è stanno pure i poveri che hanno rubato. C'è stanno ricchi che non pagano le tasse. C'è stanno pure i poveri che stanno qua a disoccupazione e il reddito delle cittadinanza e non avevano diritto. Quello è un genio. C'è stanno pure i poveri, i geni poveri, eh. Però viene sempre visto così. Perché? Cioè, iniziamo a sviscerare il ragionamento, no? Il motivo è molto semplice. Bisogna ammetterlo. Perché quello è stato più bravo di me. Quindi, lui è bravo e io sono stupido. Allora, nessuno ammette questa cosa. È meglio dire, ma lui è fortunato. Non è, lui è più bravo di me, io sono meno bravo, lui è furbo e io sono stupido. Nessuno lo ammette. Quando ammetterete io, quando ho ammesso questa cosa, è stato uno switch point. Cioè, se voi non ammettete prima questo, quello ha fatto i soldi. Perché voi non l'avete voluti fare e lui l'ha voluti fare. Cioè, chi è ricco? Sapete ormai, no? Che sembra che l'80% delle persone milionari sono di prima generazione. Quindi non hanno ereditato nulla. Se lo so, ha creato. Ma che c'ha quello più di voi? Che c'ho io più di voi? Allora, se me lo vedete così, no? Una persona normale. Come siete voi una persona normale? Non potete pensare che io so meglio tu, perché effettivamente so quello a voi. Allora, o ha rubato, o ha non pagato le tasse, o in alcuni casi è un genio. Ma non è così. È semplicemente uno che non si è messo a guardare le partite dei calci. Magari si è studiato qualcosa. Non si è messo a guardare Netflix a ammazzarsi delle serie tv. Magari ha studiato qualche libro. Non si è messo a giocare alla PlayStation. Magari ha investito quel tempo su se stesso. Io avevo la PlayStation. Io sono stato uno tra i primi a comprare la PlayStation 1. facevo, guarda, ancora ve la racconto questo. Io facevo il consulente. Ok? Ero appena uscito come dipendente da una ditta. Sapete, io ho fatto tutti e quattro i quadranti. Io ho fatto dipendente, consulente, imprenditore e investito. Io ero, avevo iniziato a lavorare proprio come consulente. Ero uscito da una ditta. Facevo progettista elettronico. Sono uscito, ero dipendente, ho chiuso il rapporto con questa ditta e mi sono messo a fare consulente. Il primo mese ho fatto lo stipendio dei tre mesi che faceva prima con un progetto. E poi lo stesso progetto può rendere a più persone. E mi sono comprato, era novembre, mi sono comprato la PlayStation 1. Milioni di lire si parlava. Ok? Ho fatto a novembre tipo 7-8 milioni di lire. 7-8 milioni, quando venivano allo stipendio dei milioni e due. Mi sono comprato subito la PlayStation 1. E mi ricordo che a dicembre, quindi questo a novembre, a dicembre, sono andato in fissa e ho finito Tomb Raider. Non so per chi se lo ricorda, il primo Tomb Raider. Ho finito Tomb Raider. In Cassi, a dicembre, 400 mila lire. Che me frega, ho fatto 7 milioni prima. A gennaio ho finito Resident Evil, il primo. In Cassi, 700 mila lire. A febbraio ho venduto la PlayStation. Questo è, secondo me, un percorso da fare. Stai in fissa con la PlayStation, ti compri con la PlayStation, ti fai l'esperienza, ma poi quando vedi che questo te leva il tempo e non guadagni più dall'altra parte, non investi su te stesso. Certo, se sei dipendente, è sempre lo stesso, no? Infatti uno deve staccarsi a dipendente. E inizia magari a fare il consulente, libro professionista, poi imprenditore. Perché, ripeto, se sei consulente o sei dipendente, non puoi arrivare nella vita. Io te lo dico chiaro. Cioè, non puoi mai raggiungere la libertà finanziaria. Ok? Poi, se l'obiettivo è avere lo stipendio fisso, avere il tuo orticello, la tua zona de comfort, per carità, niente è libero. Però poi non ti puoi lamentare a fine mese se non ci arrivi. Ti puoi lamentare di questo. E non puoi, quando vedi uno con la Ferrari, di che ruba. È semplicemente uno che è uscito dalla sua zona de comfort. Perché io sono proprio la dimostrazione che c'è vita fuori dalla zona de comfort. Fuori dalla zona de comfort. Ok? Fuori dalla ruota del Criceno. C'è vita. E la vita può essere questa qui. Una vita fatta libero, geograficamente, economicamente. E basta poco, eh. Guarda, io ho l'orto là. Ok? C'ho l'orto. Mò mettiamo pure i pannelli solari. Sicuramente che sono le Canarie dove la vita costa un po' meno dell'Italia. Le tasse sono un po' meno dell'Italia. Non è che servono tutte queste cifre, eh. Voglio dire, è una questione mentale. Mentale. Per questo io insisto sempre sui ragionamenti. Passa quello con la Ferrari. Ferrari inteso come obiettivo. Ok? Raggiunto. Te crea un'invidia. Perfetto. Va benissimo. Ci sta. Perché l'invidia è energia. Adesso devi trasformare quell'energia in cose positive che puoi fare te per raggiungere i tuoi obiettivi. Non devi parlare di lui. Devi parlare di te. Non devi parlare a quello, a quello, a quello ha fatto, a quello ha rubato, a quello, a no. No. Devi parlare di te. Perché io non so così? Perché sono stato stupido finora? Perché non ho raggiunto i miei obiettivi finora? Cioè, ma che ve vergognate di che siete stati stupiti? Cioè, se sono due persone uguali, uno raggiunge la libertà finanziaria e uno no, fermo restando che l'altro vuole raggiungerla, c'è poco da fare. Uno non si è applicato, se ne è fregato, ha visto Netflix. Cioè, Netflix è inteso come si è trastullato. Bisogna ammetterlo. Io, in un periodo, 2017, mi sono guardato allo specchio, dopo aver visto quello che succedeva intorno al mondo a me, perché è facile di non c'è credo, no? Quello ha guadagnato onestamente, adesso c'è la Ferrari. Non c'è credo che ha guadagnato onestamente. Continua a non crederci, continua a rimanere nel tuo piccolo orticello, provinciale, molto italiana, sta cosa. Bisogna uscire e andare a vedere. Fare un piano, ovviamente, ma farlo. Ciao Francesca, ti ascolto sempre volentieri e concordo che ci sia un forte problema in Italia con i soldi, un bias che ci compromette fortemente. Esatto, dovete spezzarla, sta cosa qua. Dovete spezzarla. Infatti, perché tutti vanno a vivere all'estero? Cioè, chi vuole emergere va a vivere all'estero? Perché? Per questo motivo. Proprio per uscire da un ambiente depotenziante. E Roma, sotto molti punti di vista, è depotenziante. Io vengo da Roma, parlo di Roma. Perché? Perché stai sempre incazzato per il traffico, tutti nervosi, c'è un'aria pesante, non si respira, cioè l'ossigeno manca proprio. Nelle grandi città manca l'ossigeno, ok? Cioè, l'ossigeno è una cosa più importante. Nelle grandi città manca l'ossigeno. E noi viviamo nelle grandi città. Perché? Perché c'è il lavoro. Va bene, il lavoro serve all'inizio, ma poi tocca a fare un piano per fare il passo successivo. Se noi rimaniamo schiacciati da quella situazione. Io avevo gastrite, diverticoli, sindrome del colon irritabile, tutto. Se sono andato via da Roma, non c'è avuto più niente. Eppure ho fatto gastroscopia e coloscopia, c'era scritto, eh? Cioè, non è che era solo psicosomatica, c'era scritto sul referto. Se sono andato via, non c'è avuto più nessun problema. Come è possibile questa cosa? E infatti, ora stanno a usci fuori l'epigenetica e stanno a usci libri su epigenetica. Cioè, è l'ambiente che ci distrugge giorno dopo giorno. Come la goccia, no? Aria inquinata, aria inquinata, aria inquinata, aria inquinata. Quello dopo un mese non te fa niente, dopo un anno non te fa niente, dopo dieci anni, dopo vent'anni, ammazza, dopo trenta, c'è senso proprio il suo. Interessante. Secondo me è la religione che ci ha segnato. I soldi sono sporchi. Eh, la cosa del diavolo, com'era? Il discorso della Chiesa, diciamo, a Roma si sente. A Roma si sente. Però, prevalentemente, dipende da noi. Cioè, dipende da noi. Allora, Francesca, secondo te, quanti mesi di trading in positivo bisogna fare prima di lasciare un lavoro dipendente? Io sono indeciso e vorrei fare il grande salto. Allora, questo te lo senti tu, perché stai in demo. Ok? Grazie al demo, grazie al demo, hai la possibilità di toccare la situazione con mano. Ok? E poi devi far sfumare le tue cose. Cioè, nel momento che tu inizi a vedere che con la tua, detto trading, ok, va bene, ma qualsiasi altra cosa che ti può dare la libertà finanziaria, nel momento che vedi che ti dà risultati e che quei risultati iniziano a essere, cioè, vedi futuro. Ok? Vedi libertà, vedi futuro. e c'hai le spalle coperte, allora devi assolutamente lasciare il lavoro. è fondamentale. È fondamentale. Tu devi vedere qualcosa che ti dà futuro e hai le spalle coperte. Basta. Quando c'è queste due cose, stai al posto. quanti mesi in positivo dipende da te. Ok? Dipende da come ti senti sicura. Possono essere tre mesi, può essere un anno. Non c'è una regola precisa. È molto soggettiva la cosa. È molto di mindset. Ok? È molto di mindset. Poi dipende pure da come c'hai le spalle coperte, da come ti trovi al lavoro. Sei in inferno al lavoro. Se sei in inferno al lavoro, cioè, gente lavora otto ore al giorno, otto ore, più una, magari una da andare, una da ritorno di traffico, dieci ore al giorno. Quelle dieci ore al giorno tu stai buttato sul divano o ti metti a studiare, a investire su te stesso? Dieci ore al giorno. Cioè, dieci ore al giorno, per venti, considerando anche l'andata e ritorno, per venti giorni lavorativi al mese, sono duecento ore. Ma sapete duecento ore concentrati che fate? Dai, parliamoci chiaro. Uno va otto ore al lavoro, non mi dico che stai otto ore concentrato. Io di concentrazione riesco a fare dalle mezz'ora a un'ora e mezza massimo. Una volta riuscivo a un'ora e mezza. Adesso più di mezz'ora concentrato ti fumo il cervello. Cioè, uno va al lavoro, si fa la chiacchiera, il cappuccino, quello, poi magari c'è la riunione, riunioni fiume, ma che non lo so, c'è stato io proprio il consulente, sai che sapete quante aziende ho girato. E poi magari all'ultimo, tutti le corsa, se fai 9 di sera, perché ci sono le scadenze, perché c'è quello, c'è quel progetto. Vabbè, dai, non voglio generalizzare. Ritorniamo al discorso dei ricchi. Ok, adesso vediamo qui, poi vi dico la mia. Allora, c'è Emanuele, circa un anno fa ho acquistato il percorso Mastering SP500. Ok, non ne capivo tantissimo di opzioni e dopo pochi giorni, pentito pensai, si trattasse della solita sola. No, no, non è la solita sola. Guarda, io so la dimostrazione, insomma, che io vivo grazie a questo. Vediamo altri commenti. Grazie a te e alla tua costanza nello sponale di studente, ho iniziato a studiare di brutto e le opzioni. Ho rifatto il nuovo tutto il corso e ho visto la luce. Perfetto, guarda, grazie Valerio di questa testimonianza. È come tutte le cose, cioè non esistono soldi facili, no? Strategia bellissima, mi sta, oh, grazie, mi sta cambiando la vita. Perfetto. Queste sono soddisfazioni, molto grandi. Francesco, io comunque per i ricchi ho una grande stima e lotto sempre nelle discussioni a favore di chi ce l'ha fatta. Ottimo, già mindset giusto. Ditemi anche voi la vostra, io adesso chiudo il discorso, voi ditemi anche la vostra, no? Questa cosa dell'invidia. guardate che è importante, cioè l'invidia è energia e è normale, è umano avere invidia, ok? E quell'invidia va trasformata in, cazzo, ce la faccio pure io, ok? La cazzim, quella che si dice a Napoli, È la motivazione, sarebbe. Io invece la vedo sotto addirittura un altro punto di vista. Io la vedo come che quel ricco, oltre che una poca motivazione, va anche ringraziato. Perché? Senza tornare al discorso ormai comune che il ricco crea posti di lavoro, perché non è detto che vuole creare posti di lavoro, no? Magari non vuole fare impresa, o non è questo. Il mio pensiero è che quella visita, quella visita che magari uno fa, fa un attack, o la mamma, un parente deve fare un attack, un macchinario di ultima generazione, chi l'ha pagato, secondo voi? Ok? Cioè, quel macchinario, chi l'ha pagato? Vengono pagati con le tasse. Ok? Poi, senza fare discorsi retolici, pulici, rubano le quali, perché tanto, cioè, ruberebbero comunque, ok? Però, quel macchinario, chi l'ha pagato? Quindi, se vai in ospedale e ti fai un'operazione all'occhio con laser, se ti fai qualche cosa, quella struttura, quell'apparato, hanno pagato le tasse di un ricco. Il parco giochi, a Roma è raro trovare un parco giochi sistemato, qui a Canaria ci stanno, quel parco giochi, chi l'ha pagato? Pensate che il parco giochi dove giocano i vostri figli, l'hanno pagato 500 euro al mese le tasse che pagate voi, oppure le 10.000 euro al mese, le 20.000 euro al mese le tasse che paga un ricco. Poi c'è un discorso dei servizi, dove uno paga le tasse però c'ha dei servizi. In Italia c'è pure questa cosa che l'ha detto pure il ministro o il ministro ha detto che vengono pagate troppe tasse rispetto ai servizi che si ottengono. Quindi quello è un problema, a prescindere di quello perché poi questo uno va è facile deviare discorso. Però il punto è questo, cioè che è proprio cioè le strade i servizi quei pochi che sono l'hanno pagati prevalentemente i ricchi con le loro tasse. Non ve lo dimenticate mai sta cosa. Ok? Non va a dimenticare. Io questa cosa l'ho sempre pensata e adesso inizio a toccare con mano perché con tutte le tasse che ho pagato qui penso che quando costruiscono un parco giochi me devono dir grazie pure a me. sicuramente non ha quello che guadagna 1500 euro al mese e ha pagato 400 euro le tasse. È chiara sta cosa. Però qual è la differenza? Che io mi sono fatto il culo pari da qua. Che io ho studiato e lui no. E lui sta lì alle 5 gli casca la penna e ha finito. Quindi vedete che torniamo al discorso di una scelta. Se voi state lavorando e ai 5 gli casca la penna allora perché sei povero? Perché ai 5 gli casca la penna. iniziate a costruire un'attività parallela iniziate a investire qualche sabato e domenio su te stesso gli altri ce l'hanno fatta c'è per favore te esiste un mondo fuori la rosa del crisi esiste un mondo fatto di libertà finanziaria esiste ve lo garantisco esiste ok bisogna solo impegnarsi è facile? No qualsiasi attività diventi ricco domani? No ti devi impegnare ci metti un anno? ci metti due anni? ci metti tre anni? Boh esageriamo tre anni ma tre anni fa addostavi adesso guadagni 2000 euro al mese tre anni fa ne guadagnavi 1800 e poi si vedono scene di gente che si arrabbia perché un panino costa 8 euro perché lo stabilimento là due lettini costa 60 euro 80 euro non so più io vi ho detto la mia bo dite la vostra speriamo insomma che questi ragionamenti siano utili ok prendete quello che volete dai miei ragionamenti fate la vostra la parte che volete quello che vi posso dire che questi sono i miei pensieri e questi sono i miei ragionamenti che mi hanno portato qua ok i ricchi come anche chi reputo meglio di me diventa un caso studio per me vedo ed osservo cosa fa si pone e come reagisce alle situazioni ottimo ottimo video leggi di anche molte biografie ok molto interessanti sono molto interessanti anche le biografie e cerco di assorbire e copiare esatto soprattutto a livello mindset perché ricordate che sei ricchi qua non sei ricchi in banca ok i soldi vanno vengono uno può prendere prestiti può fare investimenti giusti può fare investimenti sbagliati ma è qua la differenza è qua perché quelli che vincono al super e all'otto ritornano tutti poveri perché sono ricchi in banca ma non sono ricchi qua è semplice è semplice ragionamento se voi siete ricchi qua non c'è problema infatti molti dicono ah ma è il capitale non è un problema è il capitale è solo nella vostra testa è un problema il capitale cioè tutte le start up sono partite senza una lira quindi il problema del capitale sta nella vostra testa non è un problema dei soldi è un problema dei capoccia ok così sono più chiari perché con la capoccia giusta uno fa in piano e i soldi li trova per raggiungere obiettivi è semplice Piercarlo ti ringrazio pubblicamente per la fase 2 della strategia per essere profitti e per essere ossessionati da risk management senza pensare al proprio con la fase 2 riesco a farlo grazie ma vedi vedi cioè guarda che io questo che tu mi dici è un obiettivo chiaro la libertà ok che la fase 1 stavo parlando che chi non lo sapesse di mastering SP500 ma sappiamo una parentesi la fase 1 era la libertà a proposito c'è una mia intervista datevela a vedere c'è una mia intervista delle fonti di tv dove era il 2020 la mia intervista delle fonti di tv 2020 dove avevo temporaneamente mi ero fermato con mastering e avevo detto no strategia sull'SP500 l'ho fatta è profittevole ma devo stare tutto il giorno davanti al computer non è libertà per me niente pensate il corso l'ho fatto due anni dopo due anni dopo ci ho dovuto sbattere la testa per trovare soluzioni a questo che tu dici la fase 1 era la libertà e la fase 2 era senza essere ossessionato che tu poi opera tranquillo tranquillo perché sai che c'hai poi la fase di recupero sì è vero ti devi sbattere con la fase di recupero però c'è pure l'80% di probabilità che non accade c'è accade solo nel 20% se sei pure un po' bravino abbiamo visto 85% ok quindi voglio dire grazie per Carlo grazie della testimonianza ma i poveri sono molti di più bisogna vedere le somme ma sai perché i poveri sono di più perché la gente che non gli fa un cazzo è di più secondo te no è più comodo stare sul divano o andare a leggere un libro o andare a studiare cosa Virzilla diceva qual è il tuo ultimo libro che hai letto le istruzioni del tuo cellulare poi ognuno nel libro fa quello che gli pare o è cellulare l'istruzione non leggo libri o ha partita o c'è una partita o oggi ha una partita questo è comune no? ho stadio questo quell'altro questo è comune poi però hanno una facceria a fine mese questi sono i ragionamenti che vengono fatti ma se uno dice ok rinuncio a sta cosa ne focalizzo poi dopo ho stadio ci vado a un tribuna mi vengono a piega con l'autista mi portano a stadio se è la mia passione ok poi allo stadio ci vai con l'autista in tribuna vip questo è molto del consumismo qui ci allontaniamo dal discorso del papa che si faceva prima della chiesa qui è un discorso proprio consumistico tutto subito debiti poi non ne esci più magari uno si impegna e poi dopo visto che lo stadio la partita è la tua passione ci va in tribuna vip Piercarlo la fase 2 è il vero game changer concordo e non abbiamo finito io continuo a sperimentare fino a fine anno io continuo a sperimentare fino a fine anno e abbiamo grandi novità che presenteremo al webinar del 19 settembre e continueremo fino a fine anno a sperimentare perché lo faccio per me con Martina ci siamo a divertire un sacco a sperimentare nuove tecniche miglioramenti perché non condividerlo con tutti gli studenti voi avete creduto in me vedi il ragazzo che prima che aveva detto chi era che ha detto no pensavo di aver preso la sola ok però ci ha creduto in me e quindi io la sento questa cosa e quindi visto che io comunque faccio trading per me perché non devo condividere con voi questa cosa Francesca quanti sono gli studenti di mastering in profitto allora ora è un po' di tempo che non facciamo questo tipo di survey l'ultimo che abbiamo fatto fine anno scorso stiamo parlando del 90-91% dovremmo rifarlo un altro survey poi considera che abbiamo pure il programma nessuno deve rimanere indietro quindi cioè Pietro studiente all inclusive il concetto dell'ambiente del poterziante è molto attuale grazie per i libri ma il migliore rimane il miracle morning i corsi li ho fatti prima delle ore 8 eh vedi ottimo Pietro per esempio a me io non amo miracle morning ok io mi alzo presto ma perché è arrivata una certa età quando sono le 7 te sveglio cioè non dormo più tante ore la da letta a mezzanotte ai 7 mi sveglio la da letta ai 11 ai 6 e mezza mi sveglio ok però non so amante ok metto la sveglia alle 5 ok già mi sveglio di mio ok però ecco i libri leggetene perché uno poi trova il libro che fa per lui Natalia Nati la fase 1 la fase 2 si fanno parte del mastering SP500 la strategia che stavo facendo io il webinar del 19 sarà sulla gang no no il webinar sarà per tutti il 19 e poi daremo diciamo i dettagli come dire cioè il webinar sarà per tutti ma non non spoglieremo quello che diremo agli studenti poi ok diciamo poi gli studenti avranno il seguito dove faremo vedere il passo successivo Ciro Arduino ma la fase 2 è il collar Ciro o sei studente o non sei studente ok semplice se sei studente lo sai che è la fase 2 se non sei studente mindset parliamo di mindset buongiorno a tutti scusate ma è il mio cattino mastering da rimbrare ciao spero hai fatto hai fatto giornata insomma hai fatto anche via giornata vediamo l'ultimo Piercarlo sul mindset in genere sul trading visto il 90% di trading in mindset suggerisco trading in the zone di Mark Douglas davvero un capolavoro sì concordo concordo trading in the zone sì leggetelo grazie grazie Piercarlo bene ok grazie a tutti allora mettete like fatemi sapere se questi format vi piacciono il prossimo argomento il prossimo argomento è non lo dire a nessuno ok mi raccomando non lo dire a nessuno questo è il prossimo argomento lunedì prossimo alle 2 meno quarto italiane un saluto grazie a tutti voi ci vediamo lunedì prossimo non lo dire a nessuno e ricordate riguardo a oggi ringraziate i ricchi perché quella strada quel parco giochi quello strumento all'ospedale è stato comprato grazie a loro non grazie ai mille euro al mese che pagate voi le tasse ciao a tutti